Buon pomeriggio a tutti. La ricerca che presento si inserisce all'interno del progetto E-Doc at Work in cui Indiri aveva il compito di formare i docenti delle scuole di diverso ordine e grado alla didattica con dei modelli innovativi che prevedevano l'utilizzo delle ICT. Sono stati formati 500 docenti con un modello blended e il percorso prevedeva due possibili strade. Un percorso di base nel quale i docenti in seguito alla formazione e all'attività di coaching progettavano dei moduli da sperimentare nelle loro aule redigendo una serie di note riflessive in fase di progettazione con dei diari di bordo e in fase di valutazione finale dell'attività. Una seconda possibilità prevista per i docenti che davano la disponibilità consisteva nel fornire accoglienza in aula ad osservatori di Indire e a rilasciare interviste al termine della sperimentazione sia da parte dei docenti sia con riferimento agli alunni delle classi coinvolte. Tutto questo è stato sviluppato in una fase successiva producendo un avanzamento dello strumento di osservazione dell'attività d'aula allo scopo di osservare in maniera molecolare l'integrazione tra dispositivi tecnologici e pratiche didattiche. I riferimenti culturali sono innanzitutto una concettualizzazione delle attività di insegnamento e apprendimento in termini di pratiche. Questa categoria rinvia immediatamente alla presenza di una comunità all'interno della quale viene costruita la legittimazione del fare, del fare in un certo modo in certe situazioni tipiche ma rinvia immediatamente anche alla dimensione socio-materiale del fare quindi alla presenza di una serie di elementi che sono integrati e che sono di natura pedagogica, culturale in senso più ampio, spaziale, temporale, tecnologica. Formare i docenti ad attivare nuove pratiche vuol dire agire non solo sul piano dei comportamenti non solo produrre nuove strutture d'azione ma agire anche sul piano delle strutture interpretative della dimensione regolativa e quindi agire sul piano dell'articolazione tra aspetto oggettivo, aspetto soggettivo e intersoggettivo della competenza. Quindi concettualizzare la competenza in termini multidimensionali. Come è stato fatto in letteratura da Spencer e Spencer, la competenza può essere immaginata come un iceberg, come un continuum tra dimensioni manifeste e latenti. Inoltre la competenza può essere intesa come situata, nel senso che non è l'attributo di un soggetto ma è l'attributo di un'unità funzionale di un soggetto in situazione. Ancora si è fatto riferimento alla dimensione rituale della cultura. Che cosa vuol dire dimensione rituale? Che con la cultura, con l'agire, si creano realtà. La cultura non è solo dato di partenza, anche per gli insegnanti e per gli alunni come per tutti i soggetti sociali, ma viene continuamente consumata e riprodotta e rigenerata. Quindi docenti e alunni attraverso un certo modo di fare scuola consolidano certe categorie culturali, una certa idea del docente, del suo mandato, una certa idea dell'alunno, una certa idea dell'imparare. Intervenendo sui comportamenti, poiché il fare porta agganciato anche un elemento di rappresentazione, si interviene anche su questa dimensione, quindi si rimodula il contesto all'interno del quale i soggetti collocano il loro agire. Infine si è tenuto conto delle raccomandazioni derivanti dalle indagini talis sugli insegnanti, in primo luogo in termini di riferimento della formazione ad un'applicazione pratica nell'aula, nelle proprie aule, con riferimento ai network tra pari e con riferimento alla importanza di esplicitare nei percorsi di formazione le convinzioni latenti che sono alla base di un certo modo di insegnare. Il metodo di ricerca è quindi come ci si è mossi, partendo dalla griglia di osservazione utilizzata in fase di campo nel progetto EDOC at work per raccogliere i dati e che prevedeva solo delle categorie fattuali, verso un collegamento di queste categorie con delle categorie interpretative, utilizzando una serie di contributi derivanti dalla ricerca psicologica, pedagogica e mediologica. Quali erano gli obiettivi di questo lavoro sulle categorie osservative e interpretative? Estendere l'analisi pragmatica delle interazioni docenti e alunni alla dimensione tecnologica ed organizzativa. Ci sono degli studi sul discorso dell'insegnante in classe, sugli stili e le funzioni di questo discorso, che indicano in che modo l'insegnante non trasmette semplicemente dei contenuti ma costruisce in un certo modo il rapporto tra i soggetti, tra i partner educativi e il rapporto con la conoscenza. Questa funzione ovviamente è svolta anche dagli altri elementi che entrano nel processo didattico, da come è articolato il tempo, lo spazio, dalla stessa dimensione materiale e tecnologica. In ambito sociologico per esempio esistono degli studi sul versante etnografico che si sono sviluppati negli ultimi decenni che analizzano quale risorsa traggono i soggetti nella loro vita quotidiana dal consumo dei media. Risorse sul piano dell'organizzazione e della scansione temporale, sul piano dell'attivazione delle relazioni, sul piano della costruzione identitaria. Tutto questo non vale soltanto per il polo della vita quotidiana ma vale anche all'interno della più ristretta relazione didattica. Quindi comprendere questa concatenazione, identificare matrici comuni per l'operare di alunni e insegnanti, trovare categorie sufficientemente ampie da poter abbracciare l'agire degli uni e degli altri, partire dall'aula fisica ma includere le altre aule attivate in una didattica con gli ICT, intese tali aule come luogo sociale e non come luogo fisico, espandere il focus osservativo oltre le situazioni didattiche basate su mediatori simbolici e iconici. Quindi riconfigurare le categorie che Molinari aveva definito per il discorso dell'insegnante in classe in termini di conduzione, facilitazione, gestione e valutazione. Grazie.